registro questo video prima perché tanto anzi troppo tardi lo sto registrando non c'ho manco più la forza di incazzarmi di ritenermi deluso perché tanto ormai ogni anno è sempre la stessa storia mi ero illuso che con Mazzarri le cose potessero cambiare sul video della partita contro la Lazio in molti hanno scritto che con Mazzarri le cose sarebbero cambiate e io non perché voglio frenare l'entusiasmo ma perché so come potrebbero andare a finire le cose ho detto aspettiamo una rondine non fa primavera ncs che sarà penso il titolo del video ncs non ci siamo non ci siamo sì è vero giocavi col Napoli è vero giocare giocare con la squadra prima in classifica è vero tutto quello che vuoi non mi aspettavo di fare risultato al San Paolo anzi al Diego Armando Maradona è ovvio ma non mi aspettavo nemmeno questo mi aspettavo un qualcosa di più a livello di prestazione così non è stato per niente non so se lo conoscono tutti se voi lo conoscete il coro quello ma che ci siete venuti a fa oggi sarebbe da fare a noi ma che ci siamo andati a fa a Napoli che sostanzialmente oggi è stata Napoli contro nessuno che ci siamo venuti a fa era meglio se ne stavano a casa se facevano i cazzi loro si grattavano il perineo nelle loro abitazioni lussuose e finiva lì tanto sarebbe avremmo avuto lo stesso risultato se non un risultato più dignitoso rispetto a questo 2 a 0 contro Napoli è anche abbastanza dignitoso come risultato ma perché Napoli non ha seriamente inferito contro noi perché se Napoli avesse giocato come Cristo comanda nel senso che nel senso se fosse stata cinica dal primo al novantesimo oggi avremmo perso con una doppia cifra come minimo perché oggi il Cagliari non ha giocato oggi il Cagliari non ha giocato oggi siamo scesi in campo con 11 manichini più o meno all'incirca anzi famo 15 con i quattro cambi perché al momento ne ha fatti quattro non so se ha fatto pure il quinto vabbè raga cioè si sta incanalando tutto verso la direzione che si chiama serie b perlomeno questa è l'impressione che ho io poi sarà così non sarà così lo scopriremo ovvio ripeto so anch'io che non è questa la partita in cui il Cagliari doveva fare il risultato il risultato dovrà avvenire già la prossima partita che giocheremo in casa contro il Venezia sono la prima persona consapevole però non mi aspettavo questa prestazione non volevo questa prestazione volevo un Cagliari che perlomeno ci provasse ma così non è stato tutti i meriti al Napoli grandissima squadra da quello che si vede seria contendente per lo scudetto tra l'altro hanno quell'anguissa mi pare si chiama il centrocampo che è veramente un giocatore fenomenale però oggi abbiamo fatto ridere po nemmeno abbiamo fatto ridere i polli perché oggi dalla metta sulle vene da suicidio da periodo emo non lo so non lo so è una partita leopardiana per quanta gioia espresso mi ci sto impegnando pure troppo nel descrivere questa cazzo di partita mi ci sto impegnando anche troppo non ne vale la pena non ne vale la pena non ne vale veramente la pena fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate detto questo non ci becchiamo in un prossimo video bella